Secondo ospite, e che ospite anche questo, Michela Sciurpa, amministratore o amministratrice unica di sviluppo Umbria, no perché questa è la Repubblica fondata sulle parole se non bisogna sbagliarle, poi si cambiano solo le parole, amministratore o amministratrice? Ma direi amministratore, non perché è contro le femministe ma perché dipende dal ruolo. Il ruolo che non dipende dal genere. Bene, allora, amministratore, grazie per essere qui intanto, grazie per essere qui a Michela Sciurpa, imprenditrice, tutta la sua storia e ha deciso di mettersi in questa esperienza di sviluppo Umbria, no? Motivo? Motivo sì, perché da certo sicuramente non l'emolumento, ne parleremo dopo, ma insomma il motivo, il motivo per cui. Intanto sono stata nominata dall'Assemblea dei Soci, quindi sviluppo Umbria a diversi soci, ma in primo luogo la regione dell'Umbria al 93%, è stata un'esperienza importantissima. Iniziata nel luglio 2020, in piena pandemia. Sì, qui è un momento difficile per tutti, difficilissimo, per le imprese in particolare. Assolutamente, infatti ne parleremo, ma soprattutto anche perché sviluppo Umbria a quel tempo si trovava in una fase un po' complessa. Dall'esterno tante cose non si capiscono, si può evidentemente leggere il bilancio, che è un bilancio pubblico e tutto sommato sembrava piuttosto a posto. In salute, come si dice, in salute, sì. E invece non aveva il Covid, ma un po' di tosse, sì, tosse e raffreddore. Quando sono entrata la situazione era piuttosto preoccupante, direttore. Consideri che a giugno del 2020 era stata già determinata una perdita di 300 mila euro. Io non ero ancora amministratore di sviluppo Umbria. Ho presentato la semestrale alla giunta regionale, alla Presidente, con un preconsuntivo di meno 800 mila euro, di cui io potevo solo prendere atto perché ero appena arrivata. Appena arrivata. Cioè, quindi, pronti via, meno 800 mila. Ah, come l'ha presa? Male? Barcollando? Ci siamo dati molto da fare. Ci siamo dati molto da fare. Abbiamo risistemato anche grazie al supporto degli assessorati di riferimento e anche dei direttori e dei dirigenti della Regione, ma con una riorganizzazione del personale che ci ha permesso di svolgere un maggior numero di attività e di ricevere quegli affidamenti che eravamo... Abbiamo assolutamente bisogno. Quando si dice riorganizzazione lo dice un imprenditore ci ha cacciato la gente. No, voi l'avete fatti lavorare di più, insomma, in settori diversi. Abbiamo valorizzato del personale interno, rimesso in piedi una struttura che si doveva occupare maggiormente di progettualità esterne piuttosto che rimanere ancorata su se stessa. Consideri che Sviluppo Umbria dalla Regione Umbria riceve un fondoprogramma di più di 3 milioni e 900 mila euro, ma questo fondoprogramma non basta neanche a pagare il costo del personale. Lei considera che ci sono tre sedi di Sviluppo Umbria in Umbria, a Perugia, a Foligno e a Terni? E quella di Terni ne parliamo dopo, sì, va bene. Perugia, a Foligno e a Terni, sì. Di gestire le sedi, dare servizi, per cui ovviamente... Pagare l'affitto dove c'è da pagare l'affitto, il telefono, il riscaldamento, eccetera. Quindi sono cifre. L'aumento, l'inflazione. Sono cifre, sono cifre. Allora, lei invece di disperarsi, che ha fatto? Si è messa a lavorare, va bene? Abbiamo sboccati le maniche. Devo dire anche grazie all'ottimo personale di Sviluppo Umbria, che si è dato veramente molto da fare oggi. Anzi, diciamo che un po' qualche volta sbuffano. Ah, ecco, dice lavoriamo troppo. No, un dipendente della regione che dice lavoriamo troppo... Sono veramente impegnato. Ci crea delle perplessità. Sì, no, va bene, a parte gli scherzi. No, davvero, davvero. Guardi, nel 2020 Sviluppo Umbria gestiva tre bandi. Già soltanto nel 2021 siamo arrivati a 23. E nel 2022, con il bilancio sociale, abbiamo presentato 49 progetti. Mamma mia, 49. Da 3 a 49. Poi dite, non abbiamo fatto niente. Questo, se qualcuno mi segue, gli faccio vedere, questo è il bilancio sociale. C'è una roba vera, eh? C'è una roba vera, eh? Adesso non va annoiato. I bilanci sociali sono importanti come i bilanci. E il bilancio sociale è una novità dell'era sciurpa, va bene? Sì? È una novità importante perché permette di comunicare tutta l'attività alla collettività. Alla collettività che, appunto, dal 2022 è sicuramente soprattutto le imprese, ma anche importantissimo, direttore, le famiglie, i territori. Allora, perché no? Adesso uno arriva e dice, ma ci parlano di una finanziaria regionale, sai che è noia. No, perché ha un ruolo importantissimo per le imprese, perché sono gli imprenditori, ovviamente gli interlocutori, però anche poi i lavoratori degli imprenditori e tutte le famiglie. Voi riuscite a star dietro, diciamo, alle aziende che hanno qualche difficoltà? Allora, noi agiamo, implementiamo la politica dell'amministrazione regionale. Noi gestiamo per conto della regione Umbria diversi strumenti, misure che possono incentivare le imprese, gli imprenditori a crescere e di conseguenza a mantenere la loro capacità produttiva, a farla crescere e così anche mantenere i posti di lavoro. Lo abbiamo fatto ultimamente con una manovra remix molto importante, una novità completa. Spieghi, signor amministratore unico, che cos'è una manovra remix? È un insieme di bandi, di misure, quindi sono strumenti che servono agli imprenditori, alle imprese per decidere su quale linee di intervento investire. Quindi innovazione fondamentale. Mamma mia, lo dicono tutti, ma funziona questa roba? Fondamentale. Giuri che funziona, perché c'è tutto il mondo che vuole innovare. Ieri abbiamo chiuso il bando large, che è una di queste misure, con 143 domande arrivate per contributi richiesti da 25 milioni. Che significa? Significa che le imprese vogliono investire in innovazione, acquistano strumenti per poter innovare il loro prodotto, il loro processo, fare digitalizzazione. Quindi questi sono in Umbria, la nostra Umbria. Giura Michela Sciurpa, imprenditrice, figlia di imprenditori, amministratore unico di sviluppo Umbria, che quest'Umbria fa innovazione vera con i soldi della regione. Allora, l'innovazione è una cosa molto difficile, non è che c'è una ricetta magica. Perché qualcuno dice che finiscono per pagare le bollette e cambiano una macchinetta. Ci sono dei percorsi che sono stati attivati, mi riferisco per esempio al programma SmartUp, che ci hanno permesso di dare vita e sostegno a ben 22 start-up nuove. Quindi questo è un numero importante per la nostra regione. Oggi abbiamo lanciato da poco l'Accademia Pratica dell'Innovazione e anche questo fa parte di un percorso che non soltanto sostiene la nuova creazione di impresa, ma vuole anche dare la possibilità agli imprenditori di analizzare il proprio livello di innovazione, di formarsi, perché c'è un linguaggio tecnico che è molto complesso e in questo modo si riesce a dare un supporto per poter avere una cassetta degli attrezzi da poter utilizzare in materia di innovazione. Noi l'ascoltiamo rapiti, però qualche volta abbiamo così un briciolo di scetticismo sui risultati. Allora adesso ci deve dire, sta funzionando l'economia Umbra, start-up, innovazione, cose nuove, che significa nuovi posti di lavoro, perbacco, occasioni per i giovani, non dover andare a Milano o in Svizzera o negli Stati Uniti per fare il loro mestiere. Funziona? Allora... Dica lo giuro, sempre allunghi la mano, dica lo giuro, mano destra, sì. Come nel mio ruolo io sono l'amministratore di una società regionale che è un ente strumentale, non sono io che decido le politiche di sviluppo economico, lì c'è una giunta che ci dà gli indirizzi. Io le posso dire che i numeri ci sono. Oh, questo vogliamo sapere. Lei un'occhiata ai numeri che la dà, un'occhiatina e dice sta andando l'economia Umbra, sta andando verso l'innovazione, verso le novità, dica. Beh, allora, noi abbiamo iniziato, io le ho detto, sono entrata nel 2020, quindi il percorso dell'innovazione è un percorso complesso, difficile, ma sicuramente qualcosa è stato fatto. Il primo passo è stato fatto, le ho detto i numeri delle imprese, e stiamo anche costruendo un ecosistema dell'innovazione. Ma certo, non c'è la bacchetta magica. Eh no, e mancano queste bacchette magiche, non ci sono più. Da nessuna parte, bei tempi, quando c'erano. Allora, senza far arrabbiare il Presidente, però, un'occhiatina ai numeri, alle tendenze dell'economia regionale, come direbbe lei? Un'occhiata, non da sviluppo Umbria, su, a persona, diciamo, mi faccio, sì, una idea mia di come va l'economia regionale, e ce la fa sapere, come va? Allora, guardi, l'economia regionale Umbra, e questo è anche un mio grande desiderio, ha una grande potenzialità. Quindi, io le dico che le risposte alle misure ci sono, che la capacità imprenditoriale c'è, che, ovviamente, per quanto riguarda la capacità dell'amministrazione regionale di porre in essere misure che siano utili a sviluppare l'economia, questo lo stiamo facendo. Quindi, lei dice, quel progetto, quell'idea, la ricchezza dell'Umbria, la leghiamo alle imprese, fondamentalmente, non all'intervento pubblico, come qualche volta si è pensato di fare, lo leghiamo alle imprese, alla buona volontà e anche alle capacità degli imprenditori, insomma, sta funzionando. Lei dice, se ne prende le responsabilità. Noi, quello che stiamo facendo ci porta dei risultati. A dire questo, ok. Ci porta dei risultati. Poi ci sono delle dinamiche complessive. Nazionali, internazionali. Nazionali, internazionali, molto complesse, lo sa meglio di me. Assolutamente, chiaramente. Vi fidate di questa signora? Gli affidereste la vostra azienda? Sì, facciamo un referendum, che la che dice? Facciamo un sondaggio, facciamo un sondaggio. Ok, allora, al di là di questo, di che cosa va particolarmente fiera in questi anni di sviluppo Umbria? E su che cosa c'è qualche ritardo avrebbe voluto far meglio? Allora, si può sempre fare meglio. Ovvio, va bene. Fiera di essere riuscita a recuperare la credibilità di un ente che è molto utile. Alla Regione Umbria. Perché, guardi, direttore, faccio prima dirle di cosa non ci occupiamo, piuttosto che di che cosa ci occupiamo. Non ci occupiamo di sanità. Bene. E dato che non va benissimo, è un bel biglietto da visita. Va bene? Di tutto il resto, sì, noi collaboriamo con tutti gli assessorati, quindi ovviamente in primo luogo l'assessorato allo sviluppo economico, ma anche il turismo. E qui parliamo, adesso ne parliamo. Scuola, formazione. E abbiamo molto simpaticamente iniziato a collaborare anche con l'assessorato alle infrastrutture e con l'assessorato all'agricoltura. Quindi fate gli affari di tutti, va bene. Non sapete fare solo gli affari vostri, va bene? Ok, non fate solo gli affari vostri. E' uno strumento, quindi siamo considerati più utili, più versatili a questo punto. Versatili, efficaci. Bene. Proviamo a fare le cose bene. Turismo, ci avete dato una mano a me? No, insomma, va benino, no, il turismo va benino, anzi direi che va bene. Merito vostro? Un piccolo merito ce l'avete? Un grande merito? Allora, il turismo, diciamo che abbiamo visto i dati del 2023, sono 7 milioni di presenze quasi. Sì, sì, e un più 9% rispetto al 2022, un più 13% di stranieri. Allora, sviluppo Umbria in questo settore si occupa di promozione, non è comunicazione, la comunicazione resta in mano alla regione. Promozione significa che noi andiamo alle fiere, gestiamo il portale Umbria Turism, che è la vetrina del turismo. Che adesso mi dicono addirittura che è continuamente aggiornato e non succedeva, nei tempi andati non succedeva, questa io la dite io, aggiornato, che meraviglia, che meraviglia. E avrà un ulteriore rilancio, perché stiamo verificando ulteriori strumenti, perché la tecnologia, la digitalizzazione è una vetrina importantissima per l'Umbria. E poi c'è un altro importante settore, che è quello della promozione del turismo lento. Lo sa direttore, la regione Umbria è capofila a livello nazionale del turismo lento. Questo comprende cammini, sentieri, enogastronomia, quindi il patrimonio culturale. E nella nostra regione questo... Assolutamente importante, io mi candido come guida gratuita per chi vuole camminare, va bene? Viene con me, va bene. Andiamo insieme. Perfetto, allora, si può fare ancora di più, ovviamente. Qualche idea? Per arrivare a 8 milioni, lo dice Guarducci, non lo dico io, Eugenio Guarducci è una persona di rilevo in questo settore, si può arrivare a 8 milioni. Allora, guardi, un altro strumento molto utile è stato quello degli spettacoli dal vivo. Sviluppo Umbria si è occupata di sostenere associazioni, imprese creative, proprio per poter offrire degli elementi attrattivi sul nostro territorio. Con grande successo, ormai sono tre anni che sosteniamo degli spettacoli che coinvolgono tutta la regione Umbria di altissima qualità. Quindi gli eventi... Sono fondamentali, diciamo. Sono fondamentali. Ok. Sono fondamentali. Ne pensate a qualcun altro? No, ce l'avete in progetto? No, dice adesso è finita la legislatura. Oh, se ce n'ha qualcuno in canna lo può dire. Ma guardi, se me lo dice mi viene in mente qualcosa. Insisto? No, va bene. Allora, l'aeroporto è stato decisivo, poco da fare su questo improvviso. Improvviso, dico, perché c'è stata un'impennata dell'ultimo anno speciale, appunto, l'aeroporto è stato fondamentale. Non tutti ci credono? Eh? Allora... Sviluppo Umbria, sì, è costretta, lo fa per la regione, sì, va bene. È costretta, ma fino a un certo punto, perché sicuramente Sviluppo Umbria è socia al 78-71% per conto della regione Umbria. La regione Umbria decide la politica strategica e Sviluppo Umbria la attua, ma non è Sviluppo Umbria un passacarte, nel senso che ha la propria personalità e questo consente, nel nostro caso, un monitoraggio dell'attività dell'aeroporto, importantissimo da riferire alla regione Umbria, e anche un controllo della normativa, perché, direttore, la normativa di trasferimento è molto complessa. E forse è dietro questo che si cela un po' il diniego di qualche altro socio. Il comune di Assisi, in parte quello di Perugia, che ha detto che paga, ma quello di Assisi proprio non ci pensa nemmeno. Al momento... Stefania Proietti forse aspetta di vincere magari le prossime elezioni regionelle, non lo sappiamo, comunque, indipendentemente da questo, il comune di Assisi non ci pensa. Quello di Perugia ha detto che arrivano questi soldi, vediamo. Adesso noi attendiamo che la società sa se ci proponga il nuovo piano industriale, che sarà un piano industriale ambizioso, con nuove tratte, con investimenti importanti sull'aeroporto, perché dobbiamo superare quel numero di passeggeri che straordinariamente siamo riusciti ad ottenere. Oltre mezzo milione, ricordiamola tutti. Oltre mezzo... Ma Ryanair dice che si può arrivare a un milione. Esatto, ci vogliono degli investimenti. Quali tempo, investimenti. E vediamo se tutti i soci saranno d'accordo. La nomino in questo momento, plenipotenziaria dell'aeroporto, cacciati i direttori, se non ce ne vogliano, plenipotenziaria dell'aeroporto, anche assessore a ramo, cioè tutto lei, che bisogna fare subito? Una tratta a Francoforte? Due scali? Che facciamo fare? Sicuramente... È plenipotenziaria, può fare tutto. Per 30 secondi può decidere lei. Dica. Francoforte è un hub internazionale che sarebbe molto utile sia per l'arrivo di turisti che per la partenza e anche per il business. Io ci aggiungerei una nota romantica. Parigi. Beh, eccolo, via. Parigi sotto la Tour Eiffel, va bene, Champs-Élysées, ci andiamo, ci andiamo volentieri, ma probabilmente è un passaggio importante verso il milione nero. Potrebbe essere un passaggio importante. Sicuramente, perché l'Umbria è sempre più apprezzata appunto dall'Europa del Nord, ma anche dalla Francia stessa, perché quello che le dicevo prima, la nostra caratteristica naturale di spazi verdi aperti, il cuore verde dell'Umbria, è veramente così. Poi questa rinnovata capacità di comunicare il nostro patrimonio artistico, culturale, ci aiuta molto, ci aiuta molto, possiamo fare di più, ma questo è il momento dell'Umbria. Bene, perfetto. Allora, Parigi, Francoforte, un paio, sì, ci vogliono due gates, però no, voglio dire, per partire in tutti questi posti, quindi bisogna fare investimenti. Ci vogliono investimenti infrastrutturali. Chi dice che spende troppo la regione per l'aeroporto? Che cosa risponde? Che non c'è altro modo per poter sostenere questo importantissimo hub strategico per togliere velocemente dall'Umbria l'Umbria dall'isolamento e portare sviluppo turistico, economico, quindi è un bene funzionale alla società, alla comunità. Bene, vogliamo mettere un po' di pepe sulla coda di questa chiacchierata? Perché vi volevano, ce l'avevano con lei quelli che volevano fare sviluppo Umbria e Gepafin, una sola entità, magari sotto il grande Campagna, il mitico direttore di Gepafin? Allora, io ho un ottimo rapporto con il presidente Campagna. Presidente, ho detto direttore, mi scuso, presidente. Presidente Campagna e una grande collaborazione. Sviluppo Umbria è socio di Gepafin, ma diciamo che questa idea al momento non c'è. No, no, è stata congelata, però c'è stata, via. Ce l'avevano con lei oppure era un'ipotesi, no, a parte gli scherzi, però era un'ipotesi di lavoro praticabile. No, non irrazionalizzare ovviamente laddove possibile, ma sviluppo Umbria intanto con la sua operatività era talmente in movimento che una fusione in questo momento avrebbe significato l'interruzione dell'attività in gran parte. E poi ci sono delle ragioni tecniche per cui sviluppo Umbria, essendo un in-house, avrebbe perso le caratteristiche di in-house. In-house vuol dire in casa, in casa della regione, mentre Gepafin va bene, esterna va bene, quindi non ce l'avevano con lei. Però una persona che ce l'ha con lei l'abbiamo trovata, su. Una persona almeno, no? Lo dico io, lo dico io. Maura Agostini, che è stato il direttore di sviluppo Umbria fino a poco tempo fa, beh, gli ha tirato due stilettate mica male. Lei non ha mica risposto. Non lo diciamo perché altrimenti ci chiama in diretta. Ah, in diretta, no, no, va bene. Naturalmente gli assenti hanno quasi sempre ragione. Allora, qual è l'idea? Ho risolto con il dottor Agostini. Io non ho alcun problema, non l'ho mai avuto. Semplicemente quando sono entrata mi aspettavo un'accoglienza diversa, come giusto verso un nuovo amministratore, verso anche una donna, se vogliamo. Però, evidentemente, l'ex direttore era preso da suoi ragionamenti, pensieri e ha deciso di dimettersi, lasciando sviluppo Umbria, come le dicevo. Un po' di tosse e raffreddore, dice lei. Sì. E quindi questo ha significato per me un impegno veramente gravoso, lo potrà immaginare, ma questo ovviamente lo testimoniano anche tutti i miei collaboratori. È la stessa regione. È stato difficile, è stato difficile. Poi il dottor Agostini, ecco, ha fatto alcune cose che non mi sarei aspettata, però, come per esempio una causa, un ricorso, però questa causa è stata vinta da sviluppo Umbria, quindi io non ho bisogno di continuare a rispondere. Ok, quindi non ha risposto, ci andiamo lì. È tutto risolto. C'era stato questo piccolo, sull'emolumento, no? Non ricevuto da uno e dall'altro, che sono effettivamente molto diversi, no? Va bene, questo lo possiamo dire. Nelle carte, va bene. È nelle carte. Tenendo presente che Mauro Agostini, lei quanto prende da sviluppo Umbria? Dica, su. Questa cosa un po' mi imbarazza, però le dico perché sono i numeri e sono pubblici. Il dottor Agostini costava alla società sviluppo Umbria 220 mila euro annui. Sicuramente meritati, sicuramente strameritati. Il mio emolumento è di 28 mila euro annui l'ordi. Le proporzioni sono queste, meritate le sue e magari c'è una rinuncia da parte sua. Via, va bene? A posto? Questo ha consentito alla Regione Umbria di risparmiare 500 mila euro in questi anni di compensi dirigenziali. Ha consentito alla Regione Umbria di risparmiare, avendo diminuito il fondo del programma, un milione di euro. Quindi nella... Non sarà tutta colpa di Agostini? Via, su. Certo, diciamo che era un progetto di riforma. Via. Era un progetto... Era un progetto di riforma e di razionalizzazione della spesa. Esattamente. Ok, via. Diciamola così, Agostini, lo diciamo per chi non lo conoscesse, è un mito della famosa filiera PC, PDS, DS, eccetera, eccetera. Arrivata fino al PD, è stato tesorio, ha avuto incarichi nazionali importantissimi, quindi è sicuramente bravissimo, e però contro Michela Sciurpa non ce l'ha fatta via. Va bene. In questo senso, no, lo dice, è una causa della Regione. E i convenuti eravate... Michela Sciurpa e lui, sì. Beh, lui, diciamo, ha fatto ricorso, ha fatto causa, ha sviluppo Umbria. E poi era lei. Ero io l'amministratore. Benissimo, con grande simpatia anche per Mauro Agostini e per Michela Sciurpa adesso andiamo ad avvertire l'amministratore unico, unica, l'amministratore unica, ok? Va bene, ho messo, ho aggiustato il femminile, il maschile, che ci sono tutti, coloro che vogliono entrare in consiglio regionale, almeno dalla parte del centro-destra, preoccupatissimi, preoccupati, ne hanno motivo. Michela Sciurpa vuole scendere in campo con tutta la sua potenza di fuoco, li possiamo rasserenare o diciamo che è bene che stiano, eh? Allerta. Allora, sia sincera. Come posso non esserlo di fronte a lei? Oh, bene. Il ragionamento è questo, il duro lavoro, l'impegno di questo percorso, poi, insomma, lei lo sa, io sono stata candidata. A Fratelli d'Italia, è la prima dei non eletti. Se Marco Squarta venisse eletto alle europee, entrerebbe subito in consiglio regionale, questo l'ha detto, giusto? Detto bene, sì. Di diritto, come prima dei non eletti. Quindi non è un mistero l'impegno politico di Michela Sciurpa, insomma, via. Esattamente, però, ecco, questo percorso mi ha resa ancora più consapevole, direttore, perché sento di aver fatto la mia parte che in termini politici significa mettersi al servizio della comunità. E questo io lo sento molto. La mia sensibilità e la mia competenza che ho messo a disposizione hanno prodotto risultati importanti. Io questo lo vedo, lo sento, ho comunque faticato per arrivare a questa consapevolezza. Però oggi c'è. Quindi il ragionamento è presto farlo, però lo vorrò fare. Lo vorrò fare dove sarò utile, vorrò dare il mio contributo. Che farà da grande Michela Sciurpa? eccolo. Che farà? Non abbiamo capito bene, bene. Che farà? Che farà da grande? Pronto? Adesso vediamo. Vediamo, va bene, vediamo. Lo vediamo fra qualche mese. Qualche mese, ma anche meno di qualche mese, mi sa. Va bene, perfetto. Noi ringraziamo tantissimo Michela Sciurpa. Sviluppo Umbria, lei quando scade? Il suo mandato? Il mandato è stato rinnovato per due anni, nel 2023, quindi con il bilancio del 2024. 2024, quindi all'inizio... può cambiare? Eh certo, non si sa mai, ma ci rifarebbe altri cinque anni, no, a parlare con Agostino, no, con chi per lui, no, voglio dire, no, confrontarsi con il passato, no, che trattiamo, mi piacciono molto, imprese, famiglie, territori, innovazione, questa cosa, il turismo, poi c'ha la SASE da far decollare, c'ha Assisi, comunque gli Assisi da convincere a pagare, no, c'è un sacco di cose ancora da fare, però mi sa, mi sa che farà qualcos'altro, mi sa che Michela Sciurpa farà qualcos'altro, comunque intanto la ringraziamo molto per essere stata qui con noi e ringraziamo tutti voi di averci seguito fino a questo momento. Grazie. Grazie.